Il Dorsa Lorenzo cerca punti salvezza in trasferta al comunale di Pomezia contro il Pomezia SRL. Gli ospiti al tredicesimo costruiscono una buona occasione con Guarino che colpisce il palo con un tiro in diagonale. Al quarantesimo la risposta del Pomezia. Su punizione Faticanti prova il tiro a rete ma Bergami si rifugia in angolo. Su un altro calcio da fermo dalla parte opposta ci prova Cristian Bergami. Palla a lato. Finisce un primo tempo povero di emozioni. Nella ripresa non cambia il copione del match tranne al sessantaduesimo quando il Dorsa Lorenzo si fa avanti. Cambio di gioco sulla sinistra per Musilli che sembra aver perso il tempo per il tiro invece si porta la palla sul destro e fa partire un bolide che si insacca sotto la traversa. Qualche minuto dopo Martini è colpito da un malore e si accascia sul terreno di gioco. Chiamati i soccorsi il gioco è in una situazione alta. Al trentasettesimo l'occasione del pari è sui petiti da Dona ma il suo diagonale sfiora il palo e termina fuori. Vittoria importante per gli uomini di Mister Zito che si allontanano dalla zona retrocessione. Mister nonostante i tre punti vi servivano ci avete messo un po' per trovare il gol del vantaggio? Beh sì effettivamente dopo cinque minuti dopo il palo di Guarino e dopo due occasioni mancate sinceramente credo che i ragazzi abbiano avuto la classica paura che la prima azione subisce i gol. Comunque quando poi hai soltanto un risultato diventa veramente difficile poter affrontare una squadra comunque ostica come il Pomezia che per i punti che ha comunque in campo corre. Purtroppo ci dice sempre male a noi come squadra però noi andiamo avanti non molliamo e almeno tre punti li faremo. Questo è poco ma sicuro.